Ciao raga bentornati sul mio canale youtube, è la terza volta che sto registrando questo video, la prima volta gracchiava il microfono, la seconda si è bloccata la registrazione, non so se lo vedete mai perchè sto per tiltare Comunque domenica dovrebbero ricominciare a review gameplay dei Toz e stavolta è la Bundesliga e spartiamo subito col botto Infatti vi porto quelli che sono i tre pezzi grossi del Toz e la Bundes, almeno prezzo alla mano, ovvero Goretzka, Sancho e Lewandowski Giocatori devo dirvi che in linea generale di Bundesliga mi sono piaciuti di più rispetto alla Liga Spagnola, vi dico però che ci sono dei problemini che inizieremo già ad andare a vedere all'interno di questo video Quindi mettetevi comodi, allacciate le cinture e partiamo subito con il recapino statistico e poi andiamo a vedere quelle che invece sono le clip che ho registrato durante la Weekend League Primo giocatore dunque che si para dinnanzi a noi è Leon Goretzka, 1,89 per lui, alto normale il workrate, 4 di skill e 4 di piede debole E fin qua tutto ok, perché il 4 di skill permette di poter acquisire momentum all'interno del centrocampo, quindi poter fare un tacco-tacco fatto bene, una crocchetta Il 1,89 lo rende molto ingombrante, molto capace di recuperare il pallone attraverso le intercettazioni Accompagnato poi ovviamente da un comparto statistico clamoroso 87 di agilità che per un centrocampista è ottimo soprattutto in termini di L2 ma anche all'interno dell'area di rigore si muove molto bene come vedremo 94 intercettazione, 94 forza, 92 aggressività, è un giocatore che si attacca benissimo all'avversario e gli morde le caviglie fin tanto che non gli recupera il pallone Ottimi passaggi, quindi anche in fase di impostazione vi dà quel quid in più questo Goretzka E anche rapido, ma vi dico ma, appunto Costa quasi 3 milioni ragazzi, per 3 milioni c'è Gullit, Gullit 90 Per 3 milioni, per praticamente la metà c'è De Jong Tots, Bruno Toti Carte che sono più agili, che sono più in meta, no? Quest'anno Per carità, ripeto, Goretzka è veramente un bel giocatorino, mi è piaciuto tanto Ma se dovessi dargli un voto, qualità-prezzo gli devo dare per forza un 6,5-7 E vi devo dire che sono anche consapevole del fatto che si andrà ad assestare a prezzi più bassi Ma comunque risentirà veramente tanto della concorrenza di carte, ripeto, come De Jong e De Bruyne Che sono anche maggiormente invridabili, che un po' lo vanno a penalizzare Però Goretzka è sicuramente un giocatore molto 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 vaido Che probabilmente vedremo anche durante i prossimi tornei competitivi Secondo giocatore testato, Robert Lewandowski Che sorpresa, che bel giocatore 1,84m, alto normale, 4 di skill e 5 di piede debole Quindi acquisisce la quinta stella di piede debole E si tratta, diciamo, di parametri che, come potete vedere, assomigliano un po' più a quelli in meta di FIFA 20, no? Dove si preferiva il 5 piede debole rispetto alla quinta skill che si porta quest'anno Ma questo Lewandowski, 7 partite, 13 goal e 4 assist, mi ha stupito Ho pagato anche lui un po' tanto Stesso discorso di Goretzka Scenderà di prezzo rispetto al Toti che costa 840 Secondo me un prezzo onesto potrebbe essere 1,3-1,4 per questo Lewandowski Ma rispetto al Toti, questo qui, ragazzi, ha quel parametro 85 di agilità che non è fake Di più Quel 96 di forza non lo appesantisce minimamente Questo palla al piede è un demonio È una trottola, destra-sinistra, sinistra-destra Si gira drag back, finte cose, tiri sul primo palo, pazzeschi È rapido, anche se lo speed boost non mi è piaciuto Dei buoni passaggi, una grandissima reattività controllo palla Questo qua è veramente un giocatore con i controfiocchi Mi ha fatto impazzire, l'ho provato anche in alcuni match contro pro E ha fatto la differenza Non ama mai deluso, se non un'occasione che insomma poteva capitare Ha anche un ottimo tiro a giro, visto infatti il tiro di precisione negli attributi Un 5 piede debole che fa esattamente quello che un 5 piede debole dovrebbe fare Quindi vi dà veramente una grandissima garanzia quando si trova sul piede debole E anche per lui, vi ripeto, super promosso Lui dà un bel lotto, nonostante il prezzo sia elevato deve scendere Però è un bel lotto perché mi sono veramente rimasto colpito e sorpreso Nel trovarmi bene con un giocatore come Lewandowski A concludere questo quadretto abbiamo Sancio Sancio è 1,80m per 5 di skill, 4 piede debole, alto normale di work rate Come potete vedere 15 partite, 10 goal, 6 assist Pagato anche lui tanto Stesso discorso che ho fatto per Goretzka e Lewandowski Però lui l'ho provato sia da punta che da esterno Devo dire, da punta di dare un 8, da esterno un 8 meno Perché lo speed boost alle volte l'ho trovato un po' balbettante Giocato da esterno, quindi occhio Però, che dire ragazzi, basta guardarlo Statistiche che, insomma, di velocità tutte al top Infatti è molto rapido Ottimi passaggi, super agile palla al piede, devo dire Destra-sinistra, tunnel direzionali In particolare la suola più lo scoop turno Un movimento che questo Sancio fa veramente molto 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 bene Davanti la porta l'ho trovato impeccabile Per quanto riguarda la finalizzazione Anche lui ha il tiro di precisione di fatti a giro Non me ne ha sbagliata una Sia sul piede forte che sul piede debole Quindi, stra-promosso anche questo Sancio Ma, stesso discorso per quanto riguarda i suoi due convideati Ovvero, deve assolutamente scendere di prezzo Perché siamo un attimino fuori da una qualsiasi logica di mercato Sono giocatori che vivono di un hype Vivono probabilmente anche del fatto che in Bundes Siano loro tre unici veramente validi E quindi li hanno fatti strapagare per cercare di monetizzare Ma devono necessariamente scendere Detto questo, andiamoci subito a vedere Quelle che invece sono le clip registrate durante la Weekend League Partirei proprio con il Goro Goretzka Che, come potete vedere, all'interno dell'area di rigore Fa praticamente il bello e il cattivo tempo in questa azione Guardate, destra-sinistra, destra-sinistra, destra-sinistra Fronteggiato da Varampik, ricordo benissimo Quindi il Toz, non un difensore qualunque Viene a essere marcato Palla spostata nuovamente da sinistra verso destra Destra verso sinistra Poi si ritrova la palla appunto sul mancino E tira una saracca All'angolino che si va ad infilare in maniera veramente prepotente Questa azione qua mi è piaciuta tanto del buon Goro che ha accompagnato l'azione Qui guardate, controllo Prima Roberto Carlos e poi Mbavu Goretzka va a piazzarsi in maniera automatica Su quella che è un'eventuale linea di passaggio Si piazza lì e va a intercettare Rimandando poi la palla all'indietro per far ripartire l'azione Quindi, come potete vedere, l'intercettazione si sente Così come anche quest'altro footage Potete vedere che ritorna all'indietro In maniera automatica per andare a intercettare questa palla vagante Che altrimenti sarebbe finita sui piedi di Coutinho e poteva creare dei guai Ovviamente alla mia retroguardia Ancora, andiamo a vedere in quest'altra occasione Contrasto precisissimo alle spalle di Isaac Palla recuperata E come potete vedere, palla che non solo viene recuperata Ma l'avversario viene sbilanciato E Goretzka può impostare l'azione grazie ai suoi ottimi passaggi Come potete vedere Qui passiamoci a vedere invece quelle che sono le clip di Lewandowski E come vi dicevo, speed boost non è Celso Vedete, la palla prima gli rimane sotto e poi gli rimane sotto un'altra volta Quindi questo, diciamo, non mi ha fatto impazzire di Lewandowski come giocata Però poi guardate qua all'interno dell'area rigore Sinistra, destra, drag back Sinistra, destra, palla sul destro Tiro sul primo palo Che fulmina letteralmente il portiere Ancora una volta qui Sinistra, destra, sinistra, destra Sinistra, destra, sinistra, destra Tacco, tacco, destro sul primo palo Ragà, veramente un finalizzatore questo implacabile Un cecchino mostruoso Un giocatore che veramente mi ha fatto impazzire Ma non è finita qua Perché guardate ancora una volta Dalglish, palla all'interno per Lewandowski Sinistra, destra, sinistra, destra Finta di doppio passo Destra, saracca, allucinante Sempre sul primo palo Questo sul primo palo non lascia scampo a veramente giocate avversarie Il portiere viene sempre fulminato e bloccato Ancora una volta qui Dalglish invece Palla per Lewandowski Finta di movimento Controfinta all'altro lato Tacco, tacco Tira a giro, portiere Butta i ciquanti Battezzala Battezza all'angolino Lewandowski Butta la palla dentro In maniera prepotentissima Andiamoci a vedere ancora Quest'ultima giocata Con Lewandowski Tentativo di tunnel andata a vuoto Però Savaran viene saltato Trapassato Spostato Sinistro Ancora una volta all'angolino Raga, vi devo dire la verità Provatelo Veramente Perché forse non ci crederete Ma se metterete le vostre mani su questo Lewandowski Vedrete che effettivamente È veramente una sorpresa Un Lewandowski diverso Rispetto a tutti quelli che ho provato fino ad ora Negli altri FIFA Passiamo a vedere Sancho invece In questa prima giocata Come potete notare Sinistra-destra anche per lui Sinistra-destra Tacco-tacco Come vi dicevo Tiro a giro Implacabile anche per il buon Sancho Questa è un'altra dinamica invece Sulla palla buttata sul margine destro Il tacco-tacco a incrociare Che non lascia scampo ancora una volta al portiere Qui lo speed boost invece Guardate Vedete che la palla gli rimane un pochino sotto Si va via in velocità Però rimane un attimino balbettante Quindi questo mi ha lasciato un attimo perplesso alle volte Qui invece la suola più lo scoop turn Che è un movimento che questo Sancho fa a meraviglia Palla che poi si porta sul destro Per calciare col tiro a giro sul palo lungo Ancora una volta Sta il tunnel direzionale Scoop turn Ancora una volta Tassuola stavolta sul mancino E portiere che viene spiazzato Bellissima giocata anche questa qua Per Sancho Che vi ripeto È uno dei giocatori Che più mi è piaciuto E davanti la porta lo trovo veramente un ottimo player Oltre che anche sulla fascia Da rifinitore Ma vi ripeto Meglio da seconda punta Secondo me per quelle che sono le sue caratteristiche Ragazzi Sperando che finalmente questo video sia riuscito Spero di staccare Risentirlo e caricarlo Vi saluto Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Che ne pensate questi giocatori Fatemi sapere se li provate Li proverete Insomma In descrizione tutte le info Per i live giornali sulla piattaforma viola Un saluto al vostro Riberoski A domani Ciao